Ciao, ora io devo andare là per l'ucotello, speriamo che va bene Speriamo che non ci sono cose maledette, cioè andrà bene, andrà male, andrà bene, andrà male, non lo so Vabbè, intanto vado 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 Vabbè Vabbè Vabbè, intanto vado 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 Vabbè, intanto vabbè 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 Vabbè Anna! Oh Jack si è fermato! Prova a ucciderlo! Si è vero! Oh, ho trovato una bomba atomica. Quindi io ora l'aziono. E scappo. E scappo. E scappo. E scappo. E scappo. E scappo. Jack Torrance è morto. Tutti sono morti. Anche i fantasmi. Comunque sono stato veramente geniale ad azionarla perché sennò stavamo tutti 50.000 giorni col Jack che ci voleva uccidere. Quindi io l'ho azionata. E poi è morto. Sono veramente contento che l'abbiamo distrutto questo tello. Vabbè suratà. Io ora vi saluto. E noi ci vediamo un altro giorno. Ciao. 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 Ciao.